I vasai inglesi sono affaccendati a preparare i loro artistici prodotti per la fausta ricorrenza del giubileo dei sovrani. Le grosse palle d'argilla sono pronte per le operazioni preliminari di formazione al tornio. L'abilità dell'artefice assicura lo spessore necessario e la precisione della forma. L'accuratezza del lavoro è tale che raramente si nota diversità di spessore nelle varie coppe. Queste, racchiuse in speciali recipienti, vengono fatte cuocere nel forno durante 48 ore ad una temperatura di 1200 gradi. Il raffreddamento dura 62 ore, dopodiché le porcellane vengono immerse nello smalto. Le anse sono fabbricate con la medesima finissima porcellana adoperata per i vasi. In occasione del giubileo, speciali disegni sono stati eseguiti e incisi su una lastra di rame che viene adoperata per l'impressione sulle coppe. un delicato lavoro manuale, la rifinitura dei bordi con argento liquido che è l'ultima operazione.